Ancora una volta ha vinto la chiusura e ha perso l'accoglienza. E' amaro il commento di Monsignor Giancarlo Perego, direttore generale di Migrantes, sul Consiglio Europeo di ieri, chiamato a decidere sulla distribuzione dei 40.000 migranti arrivati in Italia e Grecia e che verranno distribuiti tra i 28 paesi e insieme a loro altri 20.000 attualmente ospitati in Africa nei centri delle Nazioni Unite. Il tutto in due anni e dopo aver proceduto all'identificazione dei migranti e al respingimento di coloro che non hanno diritto all'asilo. Ancora una volta, sottolinea Monsignor Perego, ha vinto la tutela delle merci e della proprietà intellettuale ma ha perso la tutela della vita delle persone. Ancora una volta la sicurezza è legata alla crescita di armamenti e meno ad un impegno europeo in percorsi di conoscenza, incontro e tutela. Ancora una volta dunque ha perso l'Europa, la casa comune, dice. Per Monsignor Perego si è deciso a fatica la distribuzione di 60.000 migranti, 40.000 dei quali in via eccezionale, in un'Europa di 500 milioni di persone. Insomma, una persona in più ogni 10.000 abitanti, mentre il Libano ne ha accolto uno ogni quattro abitanti. Il superamento di Dublino non può avvenire, spiega con un'azione eccezionale, quale quella decisa al Consiglio europeo, ma sarà reale quando si condividerà in maniera ordinaria e strutturale in ogni città e paese europeo, a partire anche dall'Italia, l'accoglienza di persone che hanno diritto ad una forma di protezione internazionale. Necessario dunque rafforzare le frontiere europee e l'attenzione anche a riconoscere nuovi volti e storie di profughi che fuggono da disastri ambientali, violenze, tratta per evitare, conclude il direttore di Migrantes, respingimenti e rimpatri che non tutelano la vita e la dignità delle persone. Grazie a tutti.